Oggi qua davanti all'Assemblea siciliana per chiedere una riforma che dia dignità ai lavoratori forestali. Noi siamo contrari a questo tipo di disegno di legge che la Commissione Attività Produttiva ha esitato. Bisogna assolutamente modificarlo per creare una forestale del futuro, una forestale produttiva che dia maggiore stabilità ai lavoratori forestali che vi lavorano. Quindi con due contingenti, 151 operai a tempo determinato, che resti il turnover e che resti soprattutto il contingente a tempo indeterminato. Bisogna creare per far sì che la forestale pubblica resti nel futuro e quindi anche in minima parte bisogna pensare a un ricambio generazionale. Perché nelle province piccole siamo con i lavoratori al di sotto dei contingenti di appartenenza. Quindi bisogna fare scelte politiche. Se il Governo dice non avere risorse, secondo me bisogna investire in una forestale produttiva, in una forestale che dia dignità ai lavoratori, una messa in sicurezza del territorio e una lotta al cambiamento climatico con un progetto di riforestazione. Noi chiediamo questo al Governo ed è giusto che finalmente i lavoratori abbiano veramente una dignità che meritano. Non bisogna fare una campagna elettorale cercando di buttare fumo negli occhi ai lavoratori forestali. Questo segno di leggi che stanno esitando porterà una morte naturale della forestale e la Sicilia questo non lo può permettere.